Sulla base delle previsioni annunciate precedentemente dalla mezzanotte di giovedì 30 maggio, la regione aprirà la sala operativa della protezione civile. Il centro funzionale decentrato ha emesso un nuovo avviso di criticità di aggiornamento valido 24 ore dalla mezzanotte alle 20 di venerdì 31 maggio, che eleva l'allerta idrogeologica per temporali in tutti i bacini del Veneto. Nel bacino del Basso Brenta, Bacchiglione viene indicato lo stato di preallarme per criticità idrogeologica. La criticità idraulica prevista sull'arresto dei bacini è gialla, escluso l'Alto Piave Verde. Per quanto concerne la criticità idrogeologica di preallarme, bacini del Piave Pedemontana, Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone. È previsto il possibile innesco di frane e colate rapide su settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta, probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamento di locali interrati o sottopassi, innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. A Vicenza ha aperto il COC per il bacino idrografico, questi fenomeni potrebbero innescare criticità di tipo idrogeologico alla rete secondaria, quindi per i fiumi principali la regione ha disposto lo stato di attenzione. Piave Verde. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS